Due ore di sano divertimento quelle offerte dalla diciassettesima edizione del Festival della Comicità, evento inserito nel cartellone della rassegna Prima Fila, manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale 900 Teatri con presidente Luisa Giannotti per la direzione artistica di Benedetto Castriota. In scena il teatro Sibaris Ciro Giustiniani, Antonio D'Ausilio e Lallo Circosta che ha aperto la serata. Artista, poliedrico, comico, cantante, attore, imitatore, doppiatore. Cosa ti piace di più? Ballerino che non hai nominato, è una cosa alla quale tengo molto e quindi ci tengo che si dica nel mio curico. Musica e coinvolgimento del pubblico sono stati gli ingredienti fondamentali della metafisica lalliana che ha spaziato dal cantaudorato ai cartoni animati con spudorata creatività per uno spasso continuo. E non poteva mancare il personaggio che tanta fortuna gli ha portato a guida il campionato. Antonio Cassano che io quando faccio l'imitazione non sono un imitatore, a me mi si chiedeva di fare l'imitatore, ma io non devo fare l'imitatore di personaggi. Pensai fortuna, io faccio il cartone animato dell'originale. Ho preso la palla di testa, ho fatto il gol. Poi è stata la volta della comicità di Made in Sud con il popolare comico napoletano Antonio D'Ausilio, tifoso del Napoli e noi lo interessiamo mentre gioca proprio il suo Napoli contro l'Inter. Stanno facendo l'intervista mentre sta Inter Napoli, ma sono intervistatori, sono cattivi. Come diresti, tu non è chiaro, non è chiaro, è oscuro. Che diventa un autentico tormentone. Antonio D'Ausilio ha apprezzato anche nel ruolo brillante di Riccardo Pazzaglia nella fiction sulla vita di Domenico Modugno, Volare. Com'è stata questa tua esperienza, ti è piaciuta? Bellissimo anche perché proprio Riccardo Pazzaglia, il compianto Riccardo Pazzaglia, rappresenta proprio la napoletanità che io adoro, insomma, una persona colta, raffinata. Insomma, è stato per me un onore poterne interpretare le vesti, come si dice, sto dicendo, bella, corretta? Io ogni tanto guardo anche... Sì, siamo stati, mi ha fatto aperto tutto il primo tempo. Ma non si fanno le interviste in questo, uno si inforli, dice possiamo venire? Vedi il calendario e viene. Sandy, come chiuderesti tu questa intervista? Interzero, Napoli 1. A chiudere la serata l'arte del monologo, declinata in salsa partenopea con Ciro Giustiniani. Il boss delle torte! No ma te voglia la purità, se a cui me soggio non riesce in mano, la comuniera che fa vada, accende tutta la città. Cabarettista di forte presenza scenica, che nei suoi numeri utilizza la tradizione napoletana e la quotidianità nazionale per mettere alla berlina le distorsioni della società moderna. Ma siete di Castrovilla o di Betlemmer qua fuori? Quando ho venuto ho chiamato a Benedetto, il boss del teatro. Ho detto ma Castrovilla, Betlemmer, provincia di Cosezno? Che mi hanno trovato in mezzo ai cammelli? Diciamo che di solito io sono iscritto con San Ciro, ho un abbonamento ormai annuale con San Ciro, però ogni tanto mi faccio passare i sfizi, insomma dipende dalle occasioni. C'è San Gennaro che ha un buon ripetitore e dunque pure mi rivolgo a lui. Anche se mi arrivano delle offerte buone, anche da Sant'Antonio, dici ma guarda se passi con me c'è una varia cartella di opzioni di miracoli. Però di base resto con San Ciro e poi vado, poi quando vedo che proprio tutti si zittiscono vado direttamente a Maron, dico madonna mia aiutami tu. Tutti e tre bravi ma l'ultimo era una spanna un po' sopra gli altri. Hanno quella comunicità innate, hanno avuto la capacità anche di ironizzare sul presepe vivente. Molto divertente, vabbè già si sapeva che erano dei grandi personaggi, poi comunque questo mix tra Napoli e Roma, eccellente, eccellente. Divertentissimo, bella serata, un trio eccezionale veramente. E' stata qualcosa veramente di bello. Ringrazio Benedetto Castriota perché ci regala queste bellissime serate. Siamo dopo 17 anni ancora su questo palco del Teatro Sibaris, Festival della Comicità, con tre personaggi molto molto importanti, d'eccezione come Lallo Circosta, Ciro Giustiniani e Antonio D'Ausilio. E poi ancora comicità il 28. 28, Natale viene solo di giovedì con il grandissimo Marco Marzocca e grande spalla Stefano Sarcinelli, insomma, che saranno qui alla Sibaris il 28 dicembre. Grande personaggio, lo avete visto spesso in distretto di polizia, tantissime edizioni, per un attore che ha uno spessore di caratura internazionale. Insomma, quindi vedremo cosa sarà capace di fare sul palco del Sibaris di Castrovilla.